Arrivano a Mottola dalla Spagna per partecipare al 22esimo festival internazionale della chitarra e per loro è un successo. Sono gli hermanos Cuenca e Raquel Parrilli. José e Francisco Cuenca e Morales sono nati a Cordoba e compongono un duo di chitarra e pianoforte di rara e raffinata qualità. Stati Uniti e Filippine, New York e Valencia per giungere poi a Mottola, considerata ormai una tappa fondamentale per i chitarristi di tutto il mondo. Flamenco è oltre Aromas de Andalusia, il concerto spettacolo dei fratelli spagnoli con la partecipazione di Raquel Parriglia Sanchez, danzatrice classica e di musica spagnola. Questa edizione del Festival Internazionale della chitarra a Mottola riserverà ancora grandi sorprese.